Alice Klein, le prime foto della fidanzata, chiama Paola, cercano casa insieme a Roma. Sono passati ormai diversi anni dal coming out di Alice Klein, neosegretaria del PD eletta con le primarie. Ma il volto della compagna dell'attuale vicepresidente dell'Emilia Romagna, così come la sua identità, erano sempre rimasti nel mistero. Ora invece il settimanale di Va e Donna apre uno squarcio su questo giallo. Con tanto di foto delle due ragazze insieme. La donna, scrive il Corriere della Sera, si chiama Paola e sarebbe una ragazza molto riservata. Così come la Klein, che sulla sua vita privata ha sempre mantenuto un certo riservo. Nelle foto si vedono le due insieme in auto, e in un altro scatto la compagna di Ellie che fa passeggiare il cagnolino. Secondo quanto rivela poi il messaggero, le due starebbero cercando casa insieme a Roma. Le immagini sul settimanale e in edicola domani sarebbero state scattate tra Livorno e Firenze, sulla questione però c'è un piccolo giallo. Dato che le due entrano separate in stazione a Firenze e prendono poi il treno per Bologna in vagoni diversi. Per ora, dunque, nessuna certezza. Nici un curcubeu, da ce că toate astea-s doar in capul meu. Și-mi zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cât ai intarziat deja. Arunca-ți toate visele într-o geantă și pleacă, nu grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, zi poți imagina că lumea e a ta și-n plus. Poți să sari sus, 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 sus. Hai-i mei, hai-mei, 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 n-au avut hava. Când e sus, când e sus, când e sus, când e sus, pot eu să sar. Acum că nu, nu, nu mai am nimic de ascuns, pot să mă riu tot.